Il nome di ciascuno di noi è impresso nel cuore di Dio prima della creazione del mondo. Nella cappella della Casa Santa Marta, celebrando la Messa, Papa Francesco descrive la gioia e la sicurezza che dovrebbe provare un cristiano dinanzi all'amore sconfinato del Signore, che ci conosce e ci accompagna sempre. Di qui l'invito a rivolgere una preghiera di lode e gratitudine per quel padre che mai si dimentica dei suoi figli. Noi sappiamo pregare benissimo quando chiediamo cose, anche quando ringraziamo il Signore. Ma la preghiera di lode è un po' più difficile per noi, non è tanto abituale. E questo lo possiamo sentire meglio quando noi facciamo memoria delle cose che il Signore ha fatto nella nostra vita. In Lui, in Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo. Ma ben detto, sai, Signore, perché Tu mi hai scelto. E la gioia di una vicinanza paternale è tenera. E la gioia di una vicinanza paternale è tenera.